Ciao dolcezza, nuovo video McBank, cercherò di... È pochissimo a mangiare Ok? Voi come state? Spero bene Vi lascerò una foto del cibo che mangiamo insieme Mangiate qualcosa anche voi Fish and chips Ho dimenticato la scatola, vi farò una foto L'ho preso al penny Questo mix Ci sono queste palline Piccole che sembrano di pesce ma non sono di pesce Sono piccantissime Una roba allucinante Ce la faccio Poi ci sono gli anelli di cipolla Che ti voglio fare anch'io in casa E poi delle specie di... Questo l'ho cotto al forno, tutto cotto al forno Dei pastoncini di verdura Adesso io li mangio con la forchetta Buon appetito Pina d'olio Pina d'olio Pina d'olio La roba temple Pina d'olio Ma scat Frank La robaakers La roba Che 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 Ho fatto anche stamattina i plum cake, un plum cake salato con le melanzane, una pancetta e le zucchine e vi farò un video McBank domani di una ricetta che ho fatto io in casa che mi è stato richiesto da Angelo Sacco, ciao Angelo, saluto Aurora, rosa, carciolo, mi sembra, celeste e oreste, anche celeste e oreste, ciao, se sentite il gas in sottofondo è perché sto facendo un altro succo per la pasta con le zucchine e la pancetta del melanzane, quello che ho in casa insomma, devo mettermi il rossetto ma per mangiare non va bene, buone, a parte questo qui è piccante, buono al resto, buono buono, piccolo al naso, buono, il piccante non mi piace, ci voleva un coltello, schizza, va bene, vino d'olio, il lavandino che fa rumori strani, fondo ne filano, c'è il lavandino in cucina che fa rumori strani, non so se li sentite, ho le mani sporche, cioè le ho lavate ma sono tutte piene d'olio, di fritto. All'estlice, questo è un po' lontino, la felanda. All'estitiva! La felanda! Lontra siellä! All'estitiva! All'estitiva! Ho! All'estitiva! 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 Sì. la casa dei rumor sa di formaggio con la forchetta faccio troppo casinato a parte gli alelli di cipolla gli altri due pezzi che ci sono non è che mi fanno impazzire ma vabbè una novità l'ho provata c'è più carta e plastica che cibo che c'è dentro però mangiare qualcosa di diverso va bene ogni tanto poi ho la mia bottiglia da bere di acqua perchè c'è tanto olio bisogna bere tanta acqua cerco di stare zitta ma non ce la faccio buon patto con il muffin volevo fare una torta, ho fatto che la ricetta sia del plum cake in ASMR più o meno, del plum cake della torta, poi alla fine sono diventati dei cupcake, dei muffin, con la marmellata di fragole, senza latte, senza uova, senza burro, olio, zucchero, farina 00 bianca, zucchero bianco, miele, pochissimo miele, zucchero, lievito, vanillina e una mela che stava margendo e ne ho salvata poca, purtroppo stava margendo completamente tutta, vabbè io lascio questo qui perché è piccante, ho già mangiato un altro prima, bisogna chiamare i vigili del fuoco, a presto. Grazie.